Approvato, venite a vedere amici! Guarda Piero, questi siamo noi sulla linea di partenza della Grande Corsa e qui, con questa inaugurata, va stato detto Bill, Bill 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 Nonno. Non ti ricordi di niente? Ma sono molto vecchi queste foto. Mh... Proprio le piliere esplodenti di piscina. Ah, nonno, anzi, vi farò vedere le vostre foto. Porco, questo è rosso! Ci potrò mangiare? No! Non ha funzionato! Dobbiamo trovare qualcosa di più di più di più. Ehi, ma che cosa? Ma certo! Momma... Momma... Mh... 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 brava è finito ah si very good